salve a tutti sono alda del core della remax stella polare top producer dal 2005 il vostro miglior compagno di viaggio per chi deve vendere o acquistare casa oggi siamo in corso de gasperi nel prestigioso parco de gasperi una costruzione di solo due anni fa che cosa desidero farvi ammirare incominciamo da questo angolo di paradiso ecco perché si chiama parco non è bellissimo ma ancora meglio l'attico di trevani che ora mi farò ammirare settimo piano salite con me un soggiorno ampio guardate che bella pavimentazione ma la vera chicca ve la mostrerò tra un po ci tengo a precisarvi che siamo in uno stabile realizzato solo due anni fa in classe a4 seguendo il progetto itaca significa cura dell'ambiente risparmio energetico per un'ottimizzazione di quelli che sono i costi attenzione e di un'ottimizzazione di che sono i costi di un'ottimizzazione di che varicare con la vera chicca e di una Obama per un'ottimizzazione di che v browse con la vera absorboltverte che cosi sono i costi molto altri avete visto due comode camere un bagno elegante raffinato come lo è tutto quanto il complesso ma la vera chicca questa termopergola potete chiudere aprire inserire le tende o meno basta soltanto spingere un pulsante non vi è bastato un terrazzo ecco bene un altro ricordatevi che qui siamo in un complesso top per persone veramente esigenti non soltanto per quanto riguarda le rifiniture ma anche per quanto riguarda i servizi scendete di casa e avete tutto quello che desiderate un angolo di paradiso e io vi aspetto subito per farvelo visionare